Ragazzi, oggi Shane mi ha portato, secondo lui, lo Switch player più forte d'Italia Ancora prima di iniziare il video ragazzi vi chiedo di commentare scrivendomi da che console giocate Oppure se giocate dal PC, scrivetemi da PC E per ora vi faccio salutare Shane Bella E Tom Weider Bella Sei pronto a vincere questa partita? Un bot Però, dobbiamo arrivare a 10.000 mi piace ragazzi E vi ricordo che se inserite il codice SHIKO in supporto a un creatore su Fortnite E ci tagate in una storia di Instagram in cui shoppate qualsiasi cosa nello shop Noi riposteremo la storia e in più vi risponderemo ai messaggi tutti i giorni Ok Tom, ora noi ci muteremo e se vuoi mutarti mutati pure tranquillamente anche tu E vediamo un po' come giochi Ok ragazzi vediamo subito come gioca Una cosa importantissima che voglio ricordarvi ragazzi Oh ha già una kill Sì Attenzione ragazzi È forte, è forte Oh già due che si sparano Comunque ragazzi velocemente vi voglio dire che Prima di commentare È scarso, sono più forte io, non è poi così forte eccetera eccetera Se volete dire che anche voi siete bravi Ditelo senza insultare lui E comunque ricordatevi che Giocare mentre due persone vi guardano O comunque tutti quelli che stanno guardando il video Lo stanno guardando Mette un'ansia incredibile Cioè io e Shane siamo abituati Anche a me, no anche a me metteva ansia all'inizio No ma dico Attenzione ragazzi Boom Ok E siamo già a due kill Magari io e Shane che giochiamo da tanto Mentre registriamo siamo abituati Ma per chi non ha mai 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 giocato Provate a pensare di essere voi A giocare mentre noi vi spettiamo Proprio il batticuore a mille raga Che poi lui gioca con 30 fps Esatto Lui ragazzi vi ricordo che gioca con i Joy-Con Da TV Quindi magari Cioè anzi sicuramente La TV è un 60 Hz Ma comunque con la Switch può vedere a massimo 30 fps Quindi tutto quello che noi vediamo Per lui è molto ma molto meno fluido ragazzi Che poi io ho la Switch Ho provato a giocare Te lo giuro È difficilissimo Non so fare proprio È difficilissimo Ma non so neanche come Cioè Oh attenzione attenzione un nemico Tanto mi sa che lui ha la mira automatica disattivata Eh in teoria sì Oh no In teoria lui mi ha detto che da lontano non c'è Da controllo Ah sì C'è da Switch Cavoli ha finito i materiali Ok un nemico Eccolo lì Uh Aiuto aiuto Bello bellissimo Eccolo un nemico prima Voglio vedere come c'è da lui Attenzione Uh 90s quasi Comunque è l'unico Attenzione 90 75 Dai e raga 4 kg Volevo dire che per ora È l'unico che builda Un minimo È vero È vero È molto difficile buildare da Switch Che poi il mio parere Comunque ragazzi per ora vedo che i nemici sono molto ma molto camperati nella seconda metà della partita Sì Non si fanno proprio vivi eh Hanno paura di Tom 4 kg in early game Buonissimo Buonissimo davvero ragazzi Soprattutto in questa season In cui bene o male non c'è più una pinnacoli In cui vanno tutti Ma la gente si divide Ho visto qualcosina forse Attenzione una chest Non la vuole prendere No È temerario No No grazie Va verso la sua meta Ragazzi la cosa più difficile Ecco due nemici E hanno buildato Oh sono tre nemici Guarda quanto loot Fanno il ritrovino Uccidili tutti Sia quelli belli Finisce la tu Shane Che quelli brutti Che quelli che fanno i rotti Attenzione vediamo un nemico velocissimo al muoversi Attenzione 31 31 bianco Ancora 31 62 Hs 62 Super posh grape Guarda con il nacco Con il nacco Vai Tom Vai 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 Spammalo Spammalo Craccalo Craccalo Attenzione non è l'unico che vuole portare a casa 31 E si è portato 6 kill ragazzi Non finisce più È incredibile Guarda quanta gente Guarda quanta gente Tutti a brughere ragazzi Chi gioca da Switch Ama Le brughere brumose Abbiamo brughere brumose E il laghetti Attenzione vediamo Non entra l'automira ragazzi È molto ma molto difficile 7 kill ragazzi C'è un numero di persone importanti Vediamo se riesce a battere Oh mio dio Oh mio dio Mamma mia 8 kill Guarda il loot Raga Ma che cavolo No raga Ragazzi se se la gioca bene Secondo me riesce a battere Il record di kill Che aveva fatto Nasty Il player da mobile Non so se ve lo ricordate Dell'ultimo video Quante kill erano? 14 14 Forse 15 Cavolo Forse 15 Può farcela Ne ha 8 Mancano 17 nemici Mamma mia Non può arrivare a 20 kill E sai cosa ti dico Shano? Che ci farai 1v1 dopo Da PC Da Switch Da ricaricare È proprio un R Da ricaricare Vedremo Vedremo Che fastidio Adesso sono sicuro Che è da caricare Vediamo Vediamo se ricarica Che cosa? Eh c'è un tipo Ho iniziato a prendere Le prime hit Ragazzi Attenzione Siamo 9 kill Mancano 9 nemici Può fare Può superare il record di Nasty Potremmo fare A fine serie Una mega Battle Royale Tra tutti Quelli che abbiamo preso Mamma mia Aiuto Attenzione ragazzi Quando Quando il gioco si fa duro Oh Oh Bello 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 Istantanea ragazzi Attenzione Molto Oh ioioioioioioioioioioioioi Il tipo è immobile Che non hasn't liga Nei commenti Mi avete scritto Che non esiste La mir assistita Da cecchino Cioè quindi Se uno da mobile Switch Console iPad Dello zio Fa una cecchinata Attenzione Attenzione Vediamo se El nemico si avvicina Ok Finalmente una build by Vai Una build by Guardalo E' bravo Bello Bello Si Sicuramente Ti spacca Nella spritz fight Oh Ahia arriva anche la safe ragazzi Qui il gioco si fa molto duro Ma molto ma molto duro il nemico sotto di lui Vediamo col colpo di pompa No non usai l'AR Bello Dai 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 ti voglio bello carico bro ti voglio carichissimo Attenzione colpi dall'alto Ottavo Ottavo però c'è da dire con 9 kill Ciavoli dalla No Che triste Abbiamo fatto Ecco anche lui No ma non è riuscito Ragazzi dobbiamo assolutamente vedere L'1v1 tra Shane e Tom Ok ragazzi vediamo un po' come si comporta Tom contro Shane Vediamo quanto è la differenza nelle loro skill Tom sei pronto? 3 2 1 Via Io non sono pronto Chi arriva a 3 vince ragazzi Attenzione vediamo Oh Oh ma li fai velocissimi Guarda Shane lì sotto Vai distruggilo Distruggilo Cattivissimo Vai 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 e voglio proprio una Distrutto proprio Non devi avere il tempo di pensare Attenzione Oh guarda come spara Shane Attenzione Io sono il pro player da switch ti ricordo Oh Sai anche editare? Eh si Oh 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 m'ihedすごい 110 attenzione Guarda come si prende il gioco di Shane il pisellino Cattivissimo No Ti mostro io come si vincera Uh 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 Attenzione Shane si Cioè non è Niente male Ma è scarsissimo Lo uccido Mi scordi no 1-0 per Tom ragazzi Vediamo se riusciamo a vedere Shane A fare almeno un punto Siete pronti ragazzi? 3, 2, 1, via Vai Attenzione i 90's Questi sono i 50's Bello però sei capace bro Uno è forte ovunque c'è Fortissimo Ma tu solo con la R spari Eh si perchè non so che faccia Usare l'altro Shane ma che noioso che stai sulla difensiva Però eh Mamma mia ma noi vogliamo vedere un po' di movimento Tu ti metti in un box a fare il topolino Da laboratorio Ok gli farò vedere io come si gioca A questo Oh attenzione Ragazzi Mi sono boxato ancora Sì sei come un topo Vai via Edita edita Grande Mi immagino te con i due gioistichini in mano tutto veloce Io te lo giuro bro sta tenendo le labbra E mordo per impegnarmi Attenzione Oh 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 è arrivata la giustizia dall'alto Attenzione Oh un'altra hit da 60 Non fanno curare Oh no 2 a 0 ragazzi Shane Ha perso La sfida Concludiamo il video ragazzi Mentre vediamo Tom Che tunnela È difficilissimo Immagino Da switch ragazzi Comunque l'importante è allenarsi sempre E migliorare su tutte le piattaforme ragazzi Prima o poi magari chiederò anche uno di voi Da qualche altra console Di partecipare A questi video E per ora Noi non possiamo fare l'altro che salutare e ringraziarvi Perché noi come sto oggi Pichiamo il prossimo video Ragazzi salutate Bella Bella